Oggi un Consiglio europeo estremamente delicato per l'Italia, una partita complicata. Eh ma la partita è lunga. La partita è lunga e ci auguriamo che in questa partita si comincia a segnare qualche gol. Il gol è dato dalla liquidità. Ormai siamo agli sgocci. Non c'è più liquidità, lo si capisce. Non solo nei comuni ma probabilmente anche lo Stato comincia ad andare in affanno quindi il governo trovasse la strada migliore per farsi valere al Consiglio europeo e finalmente ottenere delle risorse possibilmente senza farsi mettere un cappio al collo perché veramente in questo momento di tutto c'è bisogno tranne di un guinzaglio che poi ci tiene legato per i prossimi anni.